buongiorno signori è 30 ottobre stamattina sembra che ci siamo un po smorzata la piena però sempre a 5 era uno spettacolo della natura incredibile non so come ho fatto abbassare però ci siamo eppure sento il porcino in agguato non lo so perché non so perché vediamo un po ho visto un fungo troppo strano che lo riprende no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.